L'orientamento è fondamentale, sappiamo, nella scelta del percorso universitario. Del suo intervento mi hanno colpito soprattutto due parole chiave. Collaborazione e approccio strutturato per un progetto finanziato dal PNRR proprio sull'orientamento. Ce ne vuole parlare? Certo, con piacere. Sì, dicevamo collaborazione e approccio strutturato. Collaborazione perché questo progetto ha portato a sviluppare una piena collaborazione tra tutte le università italiane che dovevano concorrere a un obiettivo che li univa in questo senso invece che dividerli. Una piena collaborazione col MUR che ci ha assistito per tutto quello che riguardava gli aspetti amministrativi di gestione del progetto. Ci ha messo nelle condizioni di collaborare molto anche con le scuole. Quindi nel nostro caso per esempio nel Lazio direttamente con l'ufficio scolastico regionale e di pensare a un nuovo modo di fare orientamento potendo proporre questi corsi da 15 ore nelle scuole in un numero decisamente ampio. 15 ore sono parecchie, sono tante. Quindi siamo passati da una visione dell'orientamento come informazione ad una visione dell'orientamento che fa anche formazione? Assolutamente, l'orientamento ha tante diverse declinazioni. Quella informativa è forse probabilmente quella che più facilmente conosciamo tutti anche perché è quella magari maggiormente pubblicizzata ma poi c'è tutto un orientamento magari meno visibile con una forte collaborazione tra università e scuola in cui l'orientamento diventa formativo, diventa disciplinare, diventa esperienziale per far sperimentare ai ragazzi quelle che possono essere un po' le loro strade a far immaginare il loro futuro. Quest'anno per esempio noi abbiamo sperimentato un'iniziativa dove li abbiamo portati sui banchi a sperimentare una lezione in un certo ambito piuttosto che un altro facendo scegliere loro quale tipo di lezione avrebbero voluto assistere a loro singolarmente, non a loro come classe o come scuola. Quindi l'idea è ragazzi al centro per sperimentare i loro percorsi e ovviamente anche cogliere l'occasione per formarsi ulteriormente verso quello che diventa poi il loro percorso preferito. Grazie a tutti.